Abbiamo ricevuto un curriculum da SCM Group, leader mondiale nelle macchine per la lavorazione del legno e dei materiali avanzati. Vogliono essere assunti da noi. Che ne dici? Possiamo andare a sentire e fare qualche intervista, così ne sapremo qualcosa di più. Andiamo! Certo che l'Italia è famosa per il design e il gusto. Eh ma nella tecnologia industriale? Perché i clienti dovrebbero scegliere la tecnologia made in Italy? La tecnologia d'automazione da noi ha una grande tradizione. È nel nostro DNA. Perché le nostre soluzioni in termini di flessibilità ed affidabilità non sono seconda a nessuno. Siamo il migliore nel mondo. Quali sono i punti di forza di SCM? Abbiamo 65 anni di storia, anzi di evoluzione, come dimostrano i nostri 500 brevetti attivi. Ampia rete di distribuzione in tutto mondo. Siamo leader nelle macchine della lavorazione del legno e dei materiali avanzati. Beh senza dubbio l'attenzione al cliente. In SCM sviluppiamo un vero e proprio rapporto di partnership con i nostri clienti. Ci occupiamo di ricerca e sviluppo, in particolare di misure e da qui trova significato la disponibilità di questa stanza. Quindi avete rapporti anche con l'università? Assolutamente sì. Abbiamo diverse tematiche che possono richiamare studenti sia per tirocini curricolari, sia per tesi di laurea, sia per rapporti post-universitaria come giottorati di ricerca o attività di ricerca. Com'è l'ambiente lavorativo in SCM? Professionale e molto collaborativo. Si lavora in squadra, l'obiettivo è comune ed è pieno di persone pronte ad insegnarti. In una parola direi stimolante. Direi professionale, collaborativo, dinamico ma anche informale. Siamo un gruppo molto uniti e comunque in Italia si mangia bene. Per noi è un valore, fa star bene la gente a tavola. Parliamo di crescita professionale e di carriera. In particolare qual è stata la sua esperienza? L'azienda non ha mai posto limiti alla mia crescita professionale. Prima lavoravo in filiale in Russia, adesso lavoro in sede principale in Italia. Facciamo molti corsi di formazione e miglioriamo ogni giorno di più. Questa è la realtà. Qui hai parecchie possibilità di carriera. Per dei giovani come voi sicuramente il ventaglio di opzioni che un gruppo come SCM può offrire è estremamente vasto. SCM è più italiana o internazionale? Sicuramente italiana. Una buona azienda italiana e internazionale. Ovviamente internazionale. Ah, più internazionale. Beh, direi internazionale. Per me l'SCM è l'Italia nel mondo. Ovviamente più italiana. Internazionale. Internazionale, ma con quello scatto in più di essere italiani. Assolutamente internazionale, però il flavor italiano è ancora molto forte. Beh, mira, SCM sicuramente è massa internazionale. Per me, Latina 100%. Internazionale con un cuore italiano. Non pensavo di trovare così tanta passione e professionalità. Per me sono assunti. D'accordo. Per me sono assunti.